Life is Strange è il secondo progetto della software house francese Dontnod, dopo i buoni risultati ottenuti con l'originale Remember Me. Svelato ufficialmente alla Gamescom di Colonia, si è rivelato una bella sorpresa. Collocandosi nel filone narrativo che accoglie anche Beyond e Heavy Rain, il gioco vuole raccontare una storia che ha i tratti leggeri e dal contempo intimisti dei migliori teen drama. Life is Strange sarà pubblicato in 5 episodi, scegliendo quindi il modello di distribuzione delle avventure firmate Telltale Games. Il gameplay tuttavia assomiglia ai lavori già citati di David Cage. Si controlla liberamente la giovane protagonista e si interagisce con gli oggetti avvicinandosi ad essi e premendo un tasto. La vicinanza concettuale con i racconti interattivi di Quantic Dream è palese, anche se qui non manca un fortissimo elemento di originalità. La nostra protagonista, Max, ha il potere di riavvolgere il tempo e quindi di annullare le sue ultime azioni. In un prodotto inquadrato come Life is Strange questa possibilità ha dei risvolti decisamente importanti. Dopo un dialogo, ad esempio, possiamo tornare indietro e decidere di interagire con il nostro interlocutore in maniera diversa. Il potere di Max serve anche per risolvere qualche semplice enigma, ma nulla di elaborato. Soprattutto si tratta di una risorsa che permetterà all'utente di scoprire qualche retroscena. Chiunque abbia giocato all'adattamento videoludico di The Walking Dead sa bene che un modello del genere potrebbe finire per alleggerire fin troppo il peso delle scelte morali. Tuttavia, a detta degli sviluppatori, in Life is Strange le scelte non saranno mai bianche o nere e spesso lasceranno una zona di indeterminatezza. Al di là di questo, Life is Strange non sembra preoccuparsi troppo delle biforcazioni narrative. Il suo obiettivo principale è quello di raccontare una storia e farci scoprire i tormenti interiori dei personaggi. È in questo che il gioco assomiglia moltissimo a Gonom. Life is Strange racconta del ritorno di Max ad Arcadia Bay, un piccolo paesino di provincia. Max è stata via per tanto tempo e torna proprio per l'ultimo anno del college. A scuola ritrova un'amica di vecchia data, molto cambiata dall'ultima volta che si erano incontrate. Come nel capolavoro di The Fulbright Company, anche qui gli oggetti hanno un'importanza fondamentale. Le polaroid, i disegni appesi alle pareti, i cd musicali che diffondono nell'aria i riff penetranti di qualche canzone estiva. Tutto serve per creare un'atmosfera dal forte impatto emotivo, ed ogni cosa sembra avere una storia segreta da svelare. L'aspetto più controverso di Life is Strange ad oggi è sicuramente quello tecnico. Visivamente parlando, il titolo mostra grossi problemi per quel che riguarda la modellazione poligonale. Il team prova comunque a giocare la carta dello stile. Tutte le texture sono disegnate a mano, ed in certi casi gli scorci visivi trovano un accordo con questa tecnica particolare. Il team dovrà quindi sforzarsi per aggiustare le animazioni meno efficaci, la modellazione facciala dei comprimari ed aggiungere qualche filtro che renda le scene più pulite. Life is Strange, nell'arco di una breve presentazione, è riuscito a colpirci in maniera decisa, facendoci riscoprire per qualche attimo l'attenzione ai dettagli ed al racconto che il team francese aveva già riversato in Remember Me. Chiudendo un occhio sulla componente tecnica, il titolo è ispirato e originale, se non nella struttura, almeno nel contesto, nella tensione emotiva di un racconto adolescenziale e persino nella gestione del flusso temporale, che potrebbe aprire risvolti interessanti. Si tratta di un prodotto da tenere d'occhio e di una delle sorprese più piacevoli della fiera tedesca.